Assessore Sionasiotto, la chiamo con questa qualifica perché attualmente lei è Assessore alla Cultura e all'Ambiente, nella fase iniziale di questa legislatura comunale è stata capogruppo della lista Rucco e adesso è risultata la più votata nella lista Rucco che sostanzialmente ha confermato il risultato di cinque anni fa, perché se voti sono mancati, sono mancati da altre parti, ma comunque se c'è il ballottaggio e si faranno i conti finali. Ecco, una prima analisi molto rapida di quello che è successo per passare da una supposta vittoria al primo turno a un ballottaggio, al di tuo partendo con qualche punto di svantaggio rispetto a Giacomo possa mai. Devo dire che innanzitutto io mi aspettavo che si andasse al ballottaggio perché un po' tutti i sondaggi dicevano che quello sarebbe stato il risultato, quindi personalmente non mi ha stupito, un grande successo della lista civica Rucco-Sindaco che di fatto raggiunge lo stesso risultato del 2018 rivelandosi un po' il primo partito della città e io devo dire che ringrazio le 442 preferenze perché sono un risultato che mi ha veramente onorata, perché insomma avere l'affetto e la preferenza dei Vicentini, la donna di centrodestra più votata devo dire che non me l'aspettavo. L'abbiamo anche sottolineato questo aspetto. E io vi ringrazio di questo. È un numero quindi è inerogabile. È un numero e parla come tale, poi sappiamo che insomma le amministrative sono le elezioni più difficili perché raccogliere le preferenze vuol dire proprio raccogliere la fiducia dei cittadini. Io vedo in generale un po' la fatica dei partiti perché vale da una parte come dall'altra, l'invito che mi sono permessa a fare ma con molta apertura ovviamente e semplicemente come spirito di gruppo è i partiti a stare a fianco alla civica e insieme alla civica, insieme a Francesco Rucco nella battaglia finale che è quella del ballottaggio che ci vede impegnati per il 28 e per il 29 di marzo. Da osservatore, ancora prima che come giornalista, si è vista una crescita rispetto alle passate amministrative e comunque una tenuta di Fratelli d'Italia che è difficile replicare a livello locale i risultati nazionali, non c'era la Meloni in campo quindi. Mentre quello che si è notato di più è stato un calo abbastanza netto della Lega nonostante che Salvini sia venuto più volte in città o pubblicamente oppure riservatamente a parlare con il sindaco e con i candidati. C'è un motivo secondo lei di questo mancato apporto della Lega oppure una libera scelta dei cittadini che è imponterabile? Ma forse bisognerebbe chiedere alla Lega se è mancato qualcosa e io ovviamente non essendo leghista faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda. Sicuramente è vero la Lega nel 2018 porta un certo insomma una percentuale importante mentre Fratelli d'Italia nel 2018 ricordiamo non era riuscita a esprimere neanche un consigliere. Fratelli d'Italia è comunque il partito che ha la crescita maggiore a livello nazionale ma sappiamo anche che il voto alle politiche è una cosa il voto alle amministrative è completamente diverso. Ha pesato un po' perché era questo il senso della mia domanda ma non sono stato molto chiaro. Ha pesato un po' che entrambi questi partiti abbiano o sofferto di cambiamento di organizzazione o non avessero più ultimamente una propria organizzazione. La Lega ha cambiato organizzazione chiamiamola così e Fratelli d'Italia da un certo momento in poi ha perso un po' quello che era la logistica politica che stavano costruendo. Ma ripeto andrebbe probabilmente chiesto più a loro più che a me che rappresento la civica è probabile che in qualche modo qualcosa forse a livello organizzativo o di appeal sui propri elettori sia stato in qualche modo o mancato o trascurato. Guardiamo avanti guardiamo avanti. Assolutamente. Dall'altro dei suoi 442 voti quello di Don Maria ci conosciamo anche per altri motivi e abbiamo avuto modo di abbiamo bisticciato ma ci stimiamo penso. Sempre esatto. E c'è anche un po' di simpatia personale questo lo dico pubblicamente. Comunque la possa pensare e comunque mi possa poi dopo esprimere. Guardiamo al ballottaggio che a questo punto è una nuova partita. Ecco siccome hai prima accennato a dei sondaggi da cui si prevedeva il ballottaggio. Ecco ma oggi come oggi che la partita parte da zero e parte alla pari. Quali sono le armi da utilizzare per il centrodestra per recuperare il gap che ha avuto al primo turno? Ma noi innanzitutto ci presentiamo uniti al ballottaggio e questa è un po' insomma la nostra forza e quindi tutto il centrodestra compattato attorno a Francesco Rucco. Poi devo dire che insomma io personalmente all'epoca delle preferenze ho fatto proprio una campagna elettorale che si era basata sulle relazioni. Porta a porta. Porta a porta persona per persona a cui raccontare chi siamo, quello che facciamo, il senso dell'impegno civico, del perché ci si impegna nell'amministrazione di una città. E un po' stiamo facendo anche questo per il ballottaggio. Stiamo girando molto per i quartieri, stiamo incontrando le persone, ci siamo divisi l'area territoriale in 32 diciamo grosse macro aree e giriamo un gruppo di volontari per quartiere a presentarci alle persone, a raccontare che Francesco cosa ha fatto, cosa vorremmo fare, le difficoltà anche incontrate perché comunque chi va alle elezioni oggi viene da un mandato molto particolare minato dal covid quantomeno va ricordato. Io vorrei chiudere proprio sull'abbligo di questa sua annotazione, vorrei chiudere su una cosa di cui si è accusato un po' il centrodestra di non aver fatto, di non aver evidenziato quello che ha fatto parlando più di quello che farà. Ecco, l'assessore, proprio l'assessore, Simona Siotto, di cosa è più orgogliosa per la sua attività e cosa si riprometti di fare ancora meglio se la lista, se la coalizione fosse confermata e se lei avesse un carico analogo o migliore? Allora, io ho avuto due deleghe molto impegnative, cultura-ambiente, lasciando stare, insomma, a bilancio i tributi che, insomma, sono state una delega, diciamo, transitoria. Sulla cultura, abbiamo lavorato molto sull'orgoglio di Vicenza, sulla sua capacità di parlare una cultura sua senza in qualche modo guardare necessariamente le altre città, delle grandi mostre organizzate con le forze della città, l'acquisto di Palazzo Tiene. Adesso vengo da Palazzo Tiene, è pieno di persone, c'è una mostra organizzata da una scuola della città e quindi Palazzo Tiene è un anello fondamentale della città. Aver messo in rete tutti i musei, aver reso più facile l'accesso a musei, tutti i programmi che abbiamo organizzato sull'accessibilità, perché i musei devono essere di tutti, la candidatura comunque a Capitale Italiana della Cultura è servita a compattare le forze culturali della città, risvegliare l'orgoglio comunque un pochettino supito dell'essere Vicentini, devo dire, insomma, aver riportato ad esempio in auge i classici, i spettacoli classici al teatro olimpico in questi cinque anni sono stati un grande orgoglio. Per quanto riguarda l'ambiente, forse il mio più grande orgoglio è stato il cambio di metodo, cioè far capire che le politiche ambientali non sono ideologiche, sono fondamentalmente pragmatiche, devono andare incontro alle esigenze dei cittadini, altrimenti si parlano solo addosso e devono essere un collante di tutti gli altri settori amministrativi, perché si fanno politiche ambientali anche attraverso la scuola, anche attraverso la cultura, anche attraverso l'urbanistica. Io approfitto dei accenni che ha fatto la cultura e al bello per dire che già da oggi la invito a una presentazione di un libro che è in cantina da un po' di tempo, gli anticipo il titolo che è provvisore ma potrebbe essere, è Vicenza città tra parentesi quasi bellissima. Ci sono delle parti di Vicenza che potrebbero ritornare ad esserlo, perciò dicevo quasi bellissima se si facessero degli interventi. Lo pubblicheremo dopo le elezioni perché poteva sembrarsi uno schierarsi, siccome è uno schierarsi sì, ma per la città da abbellire, e lo dico da quasi vicentino, sono 30 anni che sto qui, ecco lei è la prima che io invito alla presentazione pubblica qualunque sia l'esito. Grazie, verrò perché devo dire che ci sono molte parti di Vicenza che possono migliorare, lo vedo come un invito alla città a credere in se stessa, quindi ci sarò. Grazie. Grazie e bocca al lupo. Viva il lupo sempre.